Edoardo Donnamaria è fidanzato? Fuori dalla casa ci sarebbe davvero una ragazza segreta ad aspettarlo? Ecco tutti i rumors a riguardo Edoardo Donnamaria, concorrente del Grande Fratello VIP 2022, ha una fidanzata fuori dalla casa più spiata d'Italia? Il rumore impazza sul web anche per via di alcune sibilline dichiarazioni rilasciate dai coinquilini davanti alle telecamere del reality Quale sarà la verità? Andiamo a cercare di capire insieme come districare questa matassa di croccantissimo gossip rosa Leggi anche, GF VIP, Edoardo Donnamaria non è il tipo di Antonella Fiordelisi, ecco chi l'ha detto GF VIP, Edoardo Donnamaria ha una fidanzata fuori dalla casa? Edoardo Donnamaria, concorrente del Grande Fratello VIP 2022, ha una fidanzata fuori dalla casa più spiata d'Italia? Il gossip, partito da una allusiva dichiarazione bisbigliata a bassa voce, impazza sul web ma, oggettivamente, andrebbe a cozzare con l'appeggiamento tenuto finora dal giovane davanti alle telecamere del reality Il nostro, infatti, sin dall'inizio di questa esperienza televisiva si è mostrato molto coinvolto dalla coinquilina Vippona Antonella Fiordelisi e non si tratta solo di un'impressione dei telespettatori, tra i due c'è stato anche un bacio, e, si sospetta, ben più di uno in realtà Non finisce qui, dopo essersi definito fluido, il concorrente avrebbe anche flirtato con Andrea De Paisis che, a quanto pare, ha una vera e propria cotta per lui Ecco come parla di Edoardo, per cui, nel corso del reality, è anche scoppiato in lacrime, la situazione è così evidente da aver provocato anche un commento sferzante da parte di Antonino Spinalbese che ha detto a De Paisis, senza troppi giri di parole, è un segreto La rivelazione al GF Vip Edoardo Donna Maria, concorrente del grande fratello Vip 2022, ha una fidanzata fuori dalla casa più spiata d'Italia? A rivelarlo ad Andrea De Paisis è stato Charlie Gnocchi che gli ha bisbigliato all'orecchio questo scopo, per poi aggiungere a voce alta che si tratta di un segreto L'influencer che mostra di avere una forte cotta per Donna Maria, è rimasto senza parole La situazione verrà chiarita durante una delle dirette settimanali nel primo time di Canale 5? Alfonso Signorini, pensaci tu! Seguici su Instagram cliccando qui